Ecco, attacco di Teidi, 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 fuori sopra però l'arbitro dà il vantaggio. Vede, vede, palo interno di Lele, Lele Gianleonardo ha portato in vantaggio la Virtus Catefrentano, grandissimo gol di Lele, Emanuele Gianleonardo il nostro numero 7, 2 a 1 a nostro favore. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, un gol palo interno. Un pezzo di gollone, sta più inrutata, piano piano, un pallonetto quello, non è più inrutato. Io penso che andavo fuori, ma... 2 a 1 a nostro favore, abbiamo ripreso sta partita, i primi minuti stavamo un po' dormendo e sono passati in vantaggio prima alla giovanile di Chieti. Ecco, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, il signor Genovese della sezione Aia di Chieti. Ecco, è terminato il primo tempo, 2 a 1 a nostro favore.